Questa fa parte del gioco, non ti preoccupare Si vede di... Si Ragazzi Per quattro? Vai Dove hai messo lo zucchero? Ma dai E' un coglio Vai, mi hai cagato, vai questo coglio Dove hai messo lo zucchero? Partiamo? Dai, vai Si Ma scusa, non puoi tenere le scene Partimola qui Vai, vai, rifatto, dai Certo, tu che ride Ma vai, cosa faccio? Deci stacchi? Basta No, non puoi fare il coglio Ci sono le volte che mi piace Aspetta Aspetta Siamo Ci sono Eh, se lo tieni che vuole in giù Ma dai E' apprecisa questa Questa è una chita per il coglio E' un punto molto realistico Questa è venuta bene Va bene Forse Dobbiamo rifarla un'altra volta Eh, sì Porco P*** Questo è Pippi Che stanno davvero Mi hai fatto una voce così Perché l'abbiamo causato qui Per salvarti Lui, ma perché? Lui, perché ti vogliono uccidere Ma davvero? Non è quello che vuole ragazzi Dai, ci siamo? Dai, buttami Tieni addomino alle burte, eh Quando ti colpi Scuta con il piatto Ok? Sì Pronti? Vai Ma che cazzo sta succedendo qua? Non ti preoccupare Non ti cadrà nulla Cos'è questa buffonata? Che questi due? Chi è il pagliaccio carico? Dai Ma dai Ma che cazzo fai? Che cazzo Prima pagliaccio Poi bufata Sto per C***o C***o Sto cercando di guardare da lui Sto cercando di guardare da lui Per non farmi vedere Anche che non ti si vedeva Però si è scoppiato Questo è un muovo Dio C***o 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 Oh, ragazzi Ma non riusciamo a starse Dai, dai Dai, io mi tengo la faccia di mano Non ho qualcosa Non ti preoccupare Non ti cadrà nulla Che cosa è questa buffonata? Allora, m***o Non ce la fanno Guarda, mi guarda, dai Dai, si tendi a fare No No, perché guarda Guarda qui, ragazzi Guarda qui Guarda qui Dai, dai Una prova tecnica Dai, guarda te adesso Bravo Bravo Sì, il cazzo Va lungo No, ma Sì, c***o Siafran, senti Mi ha imbalza contro il coso? Ci do di rimbalza Non senti niente La pava Poi, la meno Perché se la magari ti viene mal al braccio Assorbe i tremoli del terreno Se cercare qualcosa Faccio così Scusa, mettono qua Ma qua Sì, mi Guarda, se lo vedi Però prende di più la mia voce Ah Infatti, te, tienilo da sopra Dai, dai Non guardo te con tuve Adesso in serie Basta, dai Guarda giù a terra Sì, sì Questa merda Gli hai dato sto pugno così Questa parte No No, come già era fatto I pover sims non potevano andare avanti Dai, guarda come prima ha fatto bene Dai, partiamo Spiegagli Allora Diego Voleva che ti facessi fuori Basta Sì Eh, va bene così No, va bene anche così Vai Se la tengo così Siamo un coglione Mi fanno solo la gamba Dai Andiamo Allora, la tengo così Dai Va Che cazzo succede Non mi fai Sbaglio No, no, no No, no, no Sì Vedi, mi stai ruttando Vedi, secondo che stai Diego, com'è, vedi? Sto facendo i muscoli, Diego Sto andando Il muscolo della sega Sbaglio Voleva che Sbaglio Voleva che Loro sono dei polizionati Perché stai ridendo? Ah, 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 ah Non blocchiamo Non blocchiamola Vai, Chris Ciao dai amici dai ragazzi da cantare una canzuccina sveglia cos'è si sveglia la mattina dai sì il video è quello di cristo è quello che viene schiacciato con l'ambus no quello che suona la dj da un altro oh i ragazzi che si sbattono zitto basta aspetta a farmi non mi fai aspetta un altro che sono vicioso sveglia vogliono dai amici non schiacciare no alla fine alla fine devi dire perché in questo modo perché in questo modo prima vedi questo modo e poi ci ho messo io ah vero eccoci che fermare il chimico stai filmando stai filmando stai filmando dai ragazzi sei roma che sono filmi queste cose dai ragazzi non ti preoccupare non ti accadrà nulla ero due che sono sono dei poliziotti esatto dai non è così con i amici d banking sono temi vedete grazie apportazione è quello che stai filmando si concentra sul mercato c'è una buona non stai a parlare, non mi muovi la bocca dai vabbè che cazzo c'è? si sentono le voci di là dai ma si per pensare che ho chiamato mangiamento scusate lo manteniamo il piano come veniva? bene? ok il comitente vuole che siamo finiti entro oggi ok andiamo a ammazzare e sto ammazzare io come sono un mandante dai ragazzi ma comunque sia ti si vede anche ben poco perché c'è il riflesso dell'esterno sul vetro meglio ok cosa deve andare? quindi cosa facciamo? ma io stavo si il comitente dice mettila sul lato ma non si vede aspetta pronti? cos'è che devi dire lui? si lo devo dire vai quindi cosa facciamo? il comitente aspetta che c'è il cane che vai 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 ma fai un schifo non lo riporto quindi cosa quindi cosa facciamo? vai 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 che non ce ne sta arrivando dai quindi cosa facciamo? ci siamo? si prego prego quindi cosa facciamo? il comitente dice ma non ce ne va passiamo a stare sto ferro metti da qui dammi la metto da dietro dai aspetta che cazzo stop stop ma che roba va 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 pronti? dai a mezzanotte il punto buon saluto dopo ti sparo dopo Diego muore ora si che arriva la croce rosa dove è la pepura? non mi ricordo cosa qua? mi spingere in avanti ma voi perché siete figa via tutti via tutti macchina mettetevi voi ho detto in macchina ma cazzo ti voglio bene prima di spararti scusate sarà un piacere essere ammazzato da me ecco lì ha rotto la pistola ragazzi non posso sparare più no ecco lì qua senti prendo il martello in macchina non è meglio martello in martello non è meglio non è meglio ma perché non posso fare la scena? no perché qui c'è un giudato di malettere sotto e quindi devi e per essere sicuro che l'ho ammazzato veramente con i piedi ma con la cazzo c'è una pistola che si fa e la pistola che si fa ma è ma è ma è ma è ma ho detto perché fa così ogni due per tre non si è davanti ma no ma è la fastidio c'è il la punta il figlierino che dà fastidio allo scrocio il figlierino che dà fastidio allo scrocio mi dà dà fastidio grazie 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 grazie